Mi hanno cancellato il volo, che cosa posso fare? Innanzitutto chiedere e pretendere dalle compagnere l'assistenza a terra. L'assistenza consiste in pasti, bevande e eventualmente anche l'alloggio, dove sia necessario un pernotto, a cura della compagnia aerea. Tutto questo deve essere fornito in attesa di una riprotezione di un volo e se il volo non viene dato, deve essere rimborsato anche il biglietto che è stato pagato. A chi mi devo rivolgere quindi? Innanzitutto alla compagnia aerea, se il volo è all'interno di un pacchetto di viaggio, al Turo Pareto e all'agenzia che hanno organizzato il viaggio e poi alle associazioni dei consumatori come Adiconsum che possono assistere in qualsiasi momento i consumatori.